È stata presentata oggi nell'auditorium della Nazione la decima edizione del campionato di giornalismo. L'iniziativa rivolta alle scuole è organizzata dal quotidiano La Nazione. Siamo ormai alla decima edizione del campionato di giornalismo organizzato dalla Nazione. Quali sono le principali novità di questa edizione? Il campionato arrivato alla decima edizione coinvolge 8.000 ragazzi in tutta la nostra area di diffusione, dalla provincia di La Spezia, tutta la Toscana e l'Umbria. Ma molte novità quest'anno, soprattutto saranno i ragazzi di carcele. Noi organizziamo questo campionato perché vogliamo intanto avvicinare i giovani al mondo dell'informazione e favorire il dialogo tra le generazioni. Noi adulti non siamo stati così bravi a sviluppare nei ragazzi il senso critico e la memoria storica che invece sono indispensabili per la loro crescita e per la loro formazione. Sicuramente questo è un evento importante al quale noi crediamo moltissimo, non è una furbata per vendere più giornali. Gli stessi ragazzi ci danno molte sollecitazioni, noi impariamo ad usare linguaggi nuovi. Naturalmente ci sarà una interazione fortissima con il mondo del web, quindi i ragazzi potranno vedere il lavoro che hanno fatto sulla carta, poi anche sul nostro sito internet, dove si potranno scambiare anche delle informazioni, suggerimenti, quindi sarà tutta farina del loro sacco. Noi speriamo che anche quest'anno l'iniziativa abbia il successo che merita. E a Firenze quanti sono le scuole che partecipano quest'anno? Sono 27 scuole, circa 80 classi, 1200 ragazzi. In classe saranno affiancati da un docente tutor, abbiamo chiamato così, ma naturalmente potranno fare riferimento anche alla redazione di Firenze, dove ci sarà un collega a disposizione sempre per dare tutti i suggerimenti possibili e immaginabili. Di che scuola è? Ha già partecipato a altre edizioni del campionato di giornalismo? La nostra scuola, la Gianni Rodare di Scandicci, ha già partecipato e sono stati anche vincitori, mi sembra l'anno scorso, mi sembra l'anno scorso proprio con un'altra insegnante, la professoressa Bandinelli. E com'è stata questa esperienza da un punto di vista anche didattico, formativo? Per lei è stata molto coinvolgente e anche produttiva per quanto riguarda la ricaduta sui ragazzi. Ha notato che anche i ragazzi a scuola avevano un profitto medio, anche basso. Si sono appassionati all'esperienza e hanno tirato fuori il meglio di loro, quindi sicuramente è un'esperienza produttiva. L'esperienza è stata molto positiva perché i ragazzi, anche l'anno scorso, una cosa è scrivere un tema così con la professoressa di classe, una cosa è fare un articolo di giornale. Per quest'anno quanti ragazzi, quante classi partecipano? Noi si partecipano sempre con la terza media, abbiamo un'unica sezione e sono 21 allievi. sono molto motivati e aspettano con curiosità e con molta voglia e partecipazione di iniziare questo lavoro.